ok siamo live quindi quando volete potete iniziare grazie perfetto allora intanto buongiorno a tutti grazie per esservi uniti a noi in questo webinar che oggi si occuperà praticamente della tematica della sicurezza stradale in particolare con un focus sulle apene notturne l'idea praticamente di questo webinar è quello di parlare diciamo di queste tematiche che sono particolarmente stringenti sia per INAIL che per Sapienza e in particolare di presentarvi anche un po' quelle che sono le attività informative e formative che sono state portate avanti all'interno del progetto in collaborazione con Sapienza del Brickina e la Slipposa lascio la parola adesso alla collega dottoressa Agnese Martini dell'INAIL del Dipartimento di Medicina Epidemiologia e Gene del Lavoro ed Ambientale per iniziare ad inquadrare un po' la tematica della sicurezza stradale anche alla guida. Agnese ti lascio la parola. Grazie. Allora vi condivido subito il mio schermo per partire. eccomi qua. Allora il mio diciamo compito sarà quello di farvi fare un piccolo viaggio attraverso i numeri e eh di farvi conoscere quanto può essere importante. Dottoressa Martini l'interrompo sono benedetta non c'è la condivisione dello schermo attivo. Mi scusi. Allora riproviamo. Eccoci qui. Vediamo se riusciamo. No. scusatemi un attimo. Allora. Eccomi qua. Credo forse di esserci riuscita. Dicevo. Il mio praticamente. Adesso si vede grazie. Ecco allora il mio viaggio sarà attraverso praticamente il un viaggio attraverso i numeri e far capire ovviamente quale può essere l'importanza del stato di salute eh per la sicurezza alla guida. La sicurezza stradale è sicuramente una tematica di grande interesse eh poiché eh tanti sono i numeri ovviamente di perdite di vita umana e di invalidità e proprio per questo nasce praticamente con l'agenda duemilatrenta quello di il concetto di sviluppo sostenibile eh uno sviluppo sostenibile che tende diciamo a cambiare drasticamente la visione praticamente multidisciplinare e multifattoriale di una serie di obiettivi. Sono diciassette gli obiettivi infatti accordati dalle eh dai paesi delle Nazioni Unite e in particolare due sono quelli che interessano la sicurezza stradale cioè benessere e salute e sviluppo di città sostenibili resilienti sicure ed inclusive. Questo perché l'agenda duemilatrenta tende proprio a ehm minare diciamo la eh povertà e le disuguaglianze e e a tutelare uno sviluppo o economico una garanzia sociale e eh ambientale. Allora il nostro viaggio attraverso i numeri ehm passerà anche attraverso questa nostra praticamente immagine poster potete già cominciare a lavorare con noi in maniera interattiva vedete il QR code qui a sinistra quindi con il vostro smartphone potete inquadrarlo e accedere a questo poster. Vi lancio la presentazione appunto del poster. Dopo aver inquadrato il QR code sarà possibile accedere alla nostra pagina il nostro viaggio attraverso i dati questo l'indirizzo o per raggiungere questa pagina web. Ehm allora notiamo che il nostro viaggio va a sui dati mondiali i dati europei e eh raggiungerà appunto questo segnale che ci consentirà se vogliamo di aprire un'infografica di dettaglio di maggior conoscenza dei dati nazionali. Il viaggio continua attraverso gli infortuni i lavorativi quindi gli infortuni lavorativi i stradali eh e anche qui abbiamo la possibilità di scegliere questo percorso che ci consente di aprire un'infografica di dettaglio che poi andremo a vedere. Da qui la nostra scelta che può andare verso l'incidentalità a meno che non scegliamo tutta quella serie di regole, l'utilizzo per esempio delle ehm cinture di sicurezza, l'utilizzo del casco o sui eh ciclomotori, motocicli eh il limite di velocità, la non assunzione dell'alcol eccetera che ci porta ovviamente in sicurezza al nostro punto di arrivo e in ognuno di questi punti sono caricati dei video ehm che sono stati girati appunto come campagna ehm di sensibilizzazione da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità vediamo quella sulla velocità. Allora andiamo a vedere il nostro viaggio attraverso i dati. quindi partiamo con l'incidentalità stradale a livello mondiale e i dati ci vengono proprio dal report pubblicato nel duemiladiciotto che eh ci fa notare come l'incidentalità stradale rappresenti la prima causa di morte nei nella popolazione di età compresa tra i quindici e ventinove anni e l'ottava casa causa per tutte le altre età. Ehm il numero di morti eh è superiore a uno virgola tre eh milioni eh ogni anno e eh più del cinquanta per cento o mh implica ovviamente il coinvolgimento di utenti vulnerabili pedoni, ciclisti e motociclisti. La mortalità è tre volte più alta nei paesi a basso reddito rispetto ai paesi ad alto reddito e eh il report fa notare la difficoltà di ehm e la inadeguatezza di alcune eh applicazioni adozioni di leggi in molti paesi in particolare in relazione all'eccesso di velocità, all'assunzione di i alcol e altri comportamenti a rischio. Inoltre lacune molto alte ci sono anche nella qualità e nella completezza dei dati. La maggior parte comunque di questi numeri coinvolgono o genere eh maschile e le fasce di età economicamente attive. Allora passiamo ai dati europei. I nostri dati europei li blocchiamo diciamo al duemiladiciannove. Il duemilaventi ha rappresentato ovviamente con la crisi economica e sanitaria un anno molto particolare che ha visto il numero di decessi estremamente eh ridursi. Eh infatti i vari decreti eh governativi attuati per eh bloccare con il lockdown o comunque ridurre al minimo la mobilità hanno ridotto addirittura del eh diciassette per cento il numero di morti in in nell'Unione Europea. Eh vediamo appunto il numero di decessi e soprattutto il numero di morti per milioni di abitanti che è pari a cinquantuno e la linea appunto del l'Italia si trova solo leggermente superiore alla media. Attraverso abbiamo detto l'infografica possiamo raggiungere invece i dati di dettaglio del eh dati nazionali. In questa slide vengono riportati i dati istat modulati e eh modificati attraverso una nostra diciamo attività e mh vediamo comunque che le cause principali e le circostanze proprio del gli incidenti in primo luogo riportano come causa la distrazione. Vedremo poi l'importanza ovviamente di questo dato e in più o la ehm l'incidenza maggiore di ehm incidentalità stradale nelle fasce orarie di il trasferimento casa lavoro casa ossia il eh l'infortunio o in itinere. Gli incidenti stradali rappresentano un grave problema eh anche in ambito lavorativo quindi eh l'infortunistica stradale ovviamente correlata al lavoro infatti riporta che circa il 40% delle vittime ehm sul lavoro sono proprio correlate alla strada. Le cause però di questi ehm incidenti ehm è legato diciamo alle stesse cause che possono determinare un qualsiasi incidente nella popolazione generale. L'eccesso di velocità, il consumo di alcol, droghe o farmaci, la stanchezza e la distrazione. In particolare la stanchezza del conducente rappresenta circa il 20% degli incidenti all'interno del settore trasporto pesante. E naturalmente l'importanza del trasferimento o casa lavoro casa. Infatti l'infortunio in itinere è in netto o aumento. Sempre ritornando quindi al nostro poster possiamo cliccare eh sul segnale e aprire la nostra infografica di dettaglio. Qui sarà possibile ovviamente per chi vuole approfondire questo tipo di informazione verificare qual è l'area maggior rischio o il genere maggiormente colpito, le parti del corpo più eh sottoposte eh a danno o eccetera. Allora il sistema guida è quindi un sistema estremamente complesso che eh vede praticamente eh un un equilibrio tra i tre macrofattori determinanti l'uomo, il veicolo e l'ambiente. Questi tre fattori sono in equilibrio dinamico ma la parte fondamentale nella causa principale degli infortuni la dà proprio il macrofattore uomo. Infatti il 90% degli infortuni stradali sono dovuti ad errori umani. Questo perché eh la guida è un'attività molto complessa che richiede l'integrazione di eh numerose capacità cognitive. L'attenzione, l'interpretazione visuo spaziale, la ehm integrazione visuo motoria e naturalmente la capacità decisionale. Ossia l'uomo quindi si mette alla guida, riceve una serie di input da parte praticamente dell'ambiente e sulla base di questi input e sulla sua elaborazione elabora anche il comando che viene dato ovviamente al volante, ai comandi principali e ai comandi secondari. Tutto ciò che va a colpire ovviamente il livello di capacità eh e quindi la ehm performance alla guida, quindi tutte quelle attività che vanno a colpire e a minare l'integrità psicofisica del guidatore possono causare incidentalità. Tra questi i dati europei riportano nel 30% dei casi la velocità, nel 20-30% dei casi la distrazione e nel 25% dei casi l'assunzione di alcol. Ci focalizzeremo ovviamente, focalizzeremo l'attenzione soprattutto sulla distrazione man mano che entreremo ovviamente nella tematica delle apnee notturne. Ora sono ehm pochi gli studi, i ampli condotti in letteratura sulla l'importanza della ehm stato di salute correlata alla sicurezza stradale ma eh ci viene in aiuto la normativa, in particolare il codice della strada dove ehm viene riportato per il conseguimento, la revisione la conferma, l'importanza di non essere affetti da malattia fisica, psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale per condurre ovviamente in sicurezza eh un eh mezzo. E queste nell'appendice due al titolo quarto del eh decreto che abbiamo appena visto notiamo proprio una serie di patologie che già eh ci fanno capire quanto possa essere praticamente deficitario eh la funzionalità del soggetto in presenza di queste patologie. Malattie cardiovascolari, anche solo l'infarto del miocardio, diabete, malattie endocrine eccetera e soprattutto l'importanza e l'efficienza di alcuni ehm elementi. Vediamo infatti che lo stato di salute eh può essere alterato a seguito o di alterazioni dell'attività motoria e questo posso può compromettere ovviamente la performance alla guida oppure alterazioni dello stato di vigilanza o dell'integrità delle funzioni intellettive a seguito di condizioni patologiche e vedremo ovviamente le apnei notturne o per eh assunzione di sostanze che hanno effetti sul sistema nervoso centrale e che assumiamo per motivi voluttuari o per motivi terapeutici. Oppure la mancata integrità dei sensi. Ma l'associazione tra sonno e incidenti stradali è un dato che eh sicuramente viene già mostrato dai eh dati pubblicati nei in stampa. Quindi vediamo una serie di eventi correlati alla notturne o al colpo di sonno e questo perché gli incidenti stradali sulla base infatti dei dati di letteratura eh uno su cinque sono determinati proprio dalla sonnolenza cioè il venti per cento circa. Inoltre stare svegli più di ventiquattro ore induce errori alla guida simili a quelli di un soggetto che ha una concentrazione di alcol nel sangue superiore o uguale a un grammo sul litro cioè il doppio di quello previsto per legge come massimo consentito o dormire meno di cinque ore aumenta la probabilità di avere un incidente stradale. Quindi gli incidenti da colpo di sonno aumentano la mortalità eh e aumentano ovviamente eh la frequenza di incidenti. Allora andiamo a vedere le apnee ostruttive e quanto può essere importante ovviamente la condizione psicofisica rispetto alla sicurezza alla guida. Lascio quindi la parola al collega al mh alla dottoressa diciamo alla professoressa Polimeni scusate. Allora eh la professoressa Polimeni responsabile eh scientifico del progetto Brichina il eh Slipposa eh rettrice dell'Università Sapienza eh di Roma eh purtroppo si scusa per eh la sua assenza dovuta a impegni istituzionali e eh ci ha lasciato comunque in registrazione un video che eh vi condividerò per eh riuscire praticamente ad ascoltare le sue parole. Buongiorno a tutte e a tutti sono molto lieta di porgere il saluto della Sapienza Università di Roma in occasione di questa iniziativa a Macerlin di Macerfair Roma dell'European Edition 2021. Ho accettato con piacere l'invito a partecipare a questo webinar per l'assoluta rilevanza del tema trattato, la salute e sicurezza anche alla guida. Come è noto la sindrome delle apnee ostruttive del sonno rappresenta un grave e crescente problema sanitario, sociale ed economico. È caratterizzata la riduzione o dalla cessazione del flusso e durante il sonno riferibile al periodico restringimento fino al collasso dello spazio varingeo. Le persone con osa hanno una qualità del sonno scadente con conseguente eccessiva sonnolenza diurna che associata alla difficoltà di mantenere la concentrazione espone i soggetti al rischio di incidenti stradali e di infortuni lavorativi. Si stima infatti che in Italia la sindrome delle apnee ostruttive determina il 7% degli incidenti stradali e da studi recenti emerge una prevalenza della sindrome in Italia di oltre 24 milioni di persone d'età compresa tra i 15 e i 74 anni, cioè circa il 54% della popolazione adulta e che tra i pazienti di grado moderato severo solo circa 4-500 mila vengono diagnosticati e 2-300 mila trattati. Questo suggerisce un divario sostanziale sia nella diagnosi che nel trattamento. Le ragioni alla base della sottodiagnosi di osa sono diverse, tra queste c'è la mancanza di consapevolezza nei cittadini e a volte anche gli operatori sanitari, screening di routine che sono poco diffusi e centri diagnostici del sonno limitati. In questo contesto che si scrive Sleep Osa, il progetto Brickina 2018 che con la collaborazione del nostro Ateneo mira sviluppare un percorso formativo e informativo sui disturbi respiratori del sonno attraverso metodologie innovative che sono di partecipazione attiva e di apprendimento con l'uso di strumenti multimediali. Il progetto è stato concepito con un approccio fortemente transdisciplinare finalizzato ad aumentare e a diffondere le conoscenze del fenomeno osa nella popolazione generale e i lavoratori a maggior rischio di incidentalità stradale. L'impegno sui temi della salute e della sicurezza è molto sentito dalla Sapienza. Sapienza che già da tempo collabora con Lina e attraverso l'erogazione di un Master nazionale in gestione integrata di salute e sicurezza nell'evoluzione del mondo del lavoro, organizzato per la prima volta in Italia da quattro facoltà del nostro Ateneo. La prividenza sociale e la sicurezza insieme alla salute sono materie molto importanti e delicate per le nuove generazioni. Per questa ragione e vado a concludere, esprimo il mio apprezzamento per questa iniziativa nella ferma convinzione che per essere realmente previdenti e sicuri occorra soprattutto essere adeguatamente informati. Grazie a tutte e a tutti e buona giornata. Eccoci, allora dopo il saluto della magnifica erettrice lascio la parola alla dottoressa Piazza Allora grazie mille Agnese, intanto appunto riprendiamo con le relazioni della giornata e vorrei introdurvi il dottor Marco Brunori di Sapienza Università di Roma che il suo intervento verterà su quelli che sono i disturbi respiratori del sonno e perché viene definita praticamente la sindrome osas come un'epidemia silenziosa. Marco ti lascio la parola. Grazie, buongiorno a tutti, spero che si senta la mia voce benché in ritardo, la connessione non è ideale e se siete d'accordo disattivo il mio video per guadagnare un po' di banda. Questo sono io comunque. vado a condividere lo schermo sperando che si vedano le mie diapositive grazie, vado, mi scuso che non sono presente in video ma ripeto per guadagnare banda e vado a trattare in maniera chiara spero l'uditorio quella che viene definita un'epidemia silenziosa forse perché avviene durante il sonno che è un periodo in cui si dovrebbe essere in silenzio ma che ha un grosso impatto sulla salute. Da molti anni la medicina ha focalizzato un nuovo capitolo della patologia respiratoria che sono i disturbi respiratori durante il sonno, i DRS. Cosa vuol dire? Vuol dire che durante il sonno tutti gli organismi viventi, tra cui gli umani, vanno incontro ad un fisiologico venirmeno del controllo nervoso centrale a partenza dal cervello di molte funzioni, tra cui quella respiratoria. Per cui vi è una fisiologica depressione dell'attività respiratoria che di per sé espone eventuali pazienti più a rischio ad un eccessivo venirmeno della funzione respiratoria con una frammentazione del sonno e c'è più in linea generale una grossa attenzione della medicina moderna all'igiene del sonno, alla buona qualità per quantità e qualità di numero di ore dormite da parte del soggetto, per cui è importante soprattutto in patologie dell'architettura primaria del sonno correggere eventuali fattori esterni dell'ambiente, lo stato mentale di chi si accinge a dormire, promuovere la cultura di una buona qualità del sonno in un mondo che vive attaccato molto spesso nelle ultime ore della giornata di fronte ad uno schermo di un pc o di un tablet o di uno smartphone e questo riguarda soprattutto i giovani. Nell'ambito dei disturbi respiratori del sonno la fa da padrone l'apnea ostruttiva, l'OSAS, che è una condizione clinica in cui vi sono dei ripetuti cicli di chiusura parziale con i fenomeni del russamento o dell'ipopnea e totale con il fenomeno dell'apnea delle viere superiori, cioè di quel tratto dell'apparato respiratorio che possiamo identificare anatomicamente nel faringe, che è privo di strutture osse o cartilagine e che va fisiologicamente incontro ad un collasso durante il sonno in cui, come detto, vi è una riduzione del controllo respiratorio centrale da parte del cervello. Qual è la conseguenza in soggetti predisposti che magari hanno anche un'alterazione dell'architettura primaria del sonno per una cattiva igiene del sonno? Una cattiva ossigenazione, che è fondamentale, quindi con l'ipossia dei tessuti ed un'interruzione del sonno perché questi episodi di chiusura, le apnee, culminano fortunatamente con un risveglio brusco. Ecco allora che il paziente a rischio sarà quel paziente che russa vigorosamente quasi tutte le notti, che ha delle pause respiratorie percepite dal partner di letto che culminano con un brusco risveglio con il gasping per una sfissia e che hanno una frammentazione del sonno perché queste pause con questi bruschi risvegli si ripetono molte volte durante da notte. Da ciò ne deriva che durante il giorno vi è una sonnolenza inappropriata. I pazienti tendono ad appisolarsi in condizioni non consone all'addormentamento, tra cui purtroppo la guida al volante, specialmente in lunghi tragitti. Ricordiamoci poi che interrompere così frequentemente il sonno con questi risvegli bruschi costituisce un fattore di rischio per l'ipertensione arteriosa, malattia cardiovascolare estremamente frequente. Cosa succede quando dormiamo? Fisiologicamente per quel che vi dicevo la parola magica è riduzione del drive, cioè del controllo nervoso della respirazione durante il sonno. Fisiologicamente, soprattutto se siamo a pancia su in posizione supina, quando cominciamo a dormire vi è un rilasciamento di tutta la muscolatura del corpo umano. A livello del distretto testa-collo vi può essere la chiusura della parte alta del faringe, subito dietro la lingua, che costituisce una sorta di diaframma di barriera al passaggio dell'aria. Sarà parziale quando abbiamo il fenomeno dell'ipopnea, sarà totale quando non vi è più il passaggio dell'aria e questo, anche se il soggetto dorme, inconsapevolmente andrà a creare uno sforzo per oltrepassare questa ostruzione, questa barriera, perché ha disperatamente bisogno di ossigeno di aria e in questo tentativo vi è il risveglio brusco, con un'interruzione breve della quale spesso il paziente può non avere consapevolezza del sonno, sonno che quindi viene ad essere frammentato. Quindi la parola d'ordine è collassabilità delle alte vie aeree del faringe. Scusa se ti interrompo Marco, se sei d'accordo vorremmo proiettare, condividere e commentare con te in proposito un video realizzato dal gruppo multidisciplinare all'interno ovviamente del progetto Brickina. Ottimo, sono d'accordissimo e quindi interrompo la mia condivisione che riprenderò successivamente e vediamo insieme e poi magari commentiamo insieme il video. Prego. Ecco qui. La respirazione è una funzione essenziale poiché fa entrare l'aria ricca di ossigeno ed elimina l'aria contenente il gas di rifiuto, l'anidride carbonica. Nella respirazione... Scusatemi, c'è qualche problema nell'accesso. Scusatemi, c'è qualche problema nell'accesso. Dottoressa Martini, sono benedetta, se mi dà delle indicazioni posso... Agnese, fammi sapere che se no lo condivido io. Ok. Allora, ripartiamo. Un bello della diretta. Fatemi sapere se è tutto a posto. Perfetto. La respirazione è una funzione essenziale poiché fa entrare l'aria ricca di ossigeno ed elimina l'aria contenente il gas di rifiuto, l'anidride carbonica. Nella respirazione possiamo distinguere due fasi, inspirazione e espirazione. Durante l'inspirazione, i polmoni si riempiono d'aria ricca di ossigeno. Durante l'espirazione, i polmoni si restringono e mandano fuori aria ricca di anidride carbonica. L'apparato respiratorio è formato dai polmoni e da numerosi organi che costituiscono le vie respiratorie, dette anche vie aeree. Raccontiamo il viaggio dell'aria nelle vie aeree. L'aria entra nell'organismo attraverso la bocca e il naso. L'aria inspirata scende lungo la faringe, la laringe e la trachea che si divide in due grandi rami, i bronchi. I bronchi, a loro volta, si ramificano in una serie di tubicini, detti bronchioli. I bronchioli terminano negli alveoli polmonari, vere e proprie sacche ricche di vasi sanguigni che consentono lo scambio gassoso tra l'aria e il sangue. Vediamo cosa avviene nelle vie aeree superiori durante l'inspirazione e, in particolare, in posizione supina. Normalmente un individuo, mentre dorme, si trova a riposo. La respirazione è regolare e i livelli di ossigeno e di anidride carbonica nel sangue rimangono pressoché costanti. Invece i disturbi respiratori del sonno alterano il sonno fisiologico. Tra questi il più comune è la sindrome da apnee ostruttive del sonno, chiamata comunemente OSAS. OSAS è un disturbo respiratorio caratterizzato da ripetuti episodi di chiusura parziale o completa delle vie aeree superiori durante il riposo notturno, che portano ad un'interruzione respiratoria temporanea con periodi di apnea superiori a 10 secondi intervallati dalla ripresa del respiro conseguente al risveglio. L'ostruzione delle vie aeree superiori riduce il livello di ossigeno nel sangue e provoca un aumento della concentrazione di anidride carbonica. Il cervello percepisce il rischio di soffocamento e invia l'impulso per modificare la profondità del sonno, cioè un micro risveglio che attiva i muscoli respiratori che riaprono il passaggio dell'aria. L'apertura delle vie aeree dopo l'apnea avviene generalmente con un respiro esplosivo e rumoroso per cercare di recuperare aria. Successivamente il sonno diventa profondo, i muscoli si rilassano, le pareti si avvicinano e il soggetto torna a russare via via più forte fino ad una nuova apnea. Le ripetute apnee determinano riduzioni di ossigeno nel sangue, alterazioni della frequenza cardiaca, aumento della pressione arteriosa e polmonare e frammentazione del sonno. Questa condizione prolungata nel tempo può coinvolgere l'apparato respiratorio, ad esempio insufficienza respiratoria, l'apparato cardiocircolatorio, ad esempio ipertensione, aritmie cardiache, malattia coronarica, patologie cerebrovascolari e il sistema neurologico, ad esempio disturbi cognitivi e dell'umore, ansia, instabilità emotiva, sindrome depressiva e può determinare lo sviluppo di numerose malattie croniche non trasmissibili, ad esempio insufficienza renale, neoplasie, obesità e diabete. Ringrazio il gruppo multidisciplinale attraverso il quale è stato possibile realizzare ovviamente questo video e lascio di nuovo la parola al dottor Brunori. Prego Marco. Rieccomi, mi faccio anche vedere per un nanosecondo in video per dimostrarvi che esisto, che non sono un avatar e riprendo, sperando di riuscirci, la condivisione delle slides che avevo interrotto e che sono state ampiamente chiarite dall'ottimo video sul quale mi devo complimentare con i produttori. Quindi collassabilità, interruzione del respiro, interruzione dell'ossigenazione, che è essenziale per il corpo umano e slatentizzazione di un sacco di patologie sistemiche. Si è detto, e questo è importante sottolinearlo, come uno dei sintomi diurni sia la eccessiva sonnolenza che ovviamente quando avviene alla guida di automobile o di un mezzo articolato pensiamo al lavoro pesante di un trasportatore noioso, monotono, costretto per lunghe ore alla guida di un'auto articolato con dei fattori di rischio che adesso andremo a condividere che impatto può avere sulla sua salute e su quella di chi circola insieme a lui. Quindi noi sappiamo che l'OSAS è uno dei fattori di rischi di incidenti automobilistici la letteratura internazionale è ricchissima di evidenze ed il rischio di incidentalità alla guida per il paziente con l'OSAS è sette volte superiore. Quali sono i fattori di rischio che fanno di un soggetto un ipotetico paziente affetto da OSAS? Fattori di rischio su cui dobbiamo vigilare anche da medici per poter sospettare la patologia. Prima cosa l'obesità. Aumento di peso soprattutto a livello del distretto collo, torace e addome è il primo fattore di rischio ma ricordiamoci che anche pazienti normopeso se non addirittura sottopeso possono andare incontro a russamento ed apnee qualora abbiano delle alterazioni cranio-facciali, maxillo-facciali del naso, del palato, della articolazione dei denti quindi del rapporto tra le arcate dentarie, le malloclusioni quando hanno problemi di adenoidi e tonsille. L'età avanzata contribuisce spesso anche secondaria alla perdita dei denti l'essere maschi, abusare di alcol e tabacco mangiare eccessivamente prima del sonno ed abusare di sonniferi che sono i farmaci più venduti nelle nostre farmacie in Italia. Tutto questo può predisporre al famigerato collasso delle alte vie. L'obesità è sicuramente il fattore di rischio più noto essere in eccesso di peso di 10 chili guadagnare 10 chili in poco tempo è responsabile di un aumento del 30% del rischio di avere apnee durante il sonno e ci riferiamo soprattutto all'obesità tipica del sesso maschile cosiddetta androide con accumulo di grasso a livello del torace e dell'addome rispetto a quella del sesso femminile detta ginoide dove l'accumulo è prevalente sugli arti inferiori. Quindi un eccessivo diametro a livello dell'addome che schiaccerà le basi polmonari un eccessivo diametro a livello del collo sono dei fattori di rischio su cui vigilare. Attenzione all'OSAS nei bambini nei piccoli pazienti in età pediatrica spesso legata ad ipertrofia delle tonsille con una cattiva respirazione nasale da parte dei piccoli pazienti che può provocare un alterato accrescimento delle ossa facciali e delle arcate dentali su cui il pediatra e l'odontoiatra pediatrico con l'ortodonzia debbono intervenire precocemente. Si parlava di un'epidemia silenziosa perché sono moltissimi i pazienti in Italia se ne stimano circa 4 milioni sempre di più per via del progressivo invecchiamento della popolazione e ricordo come molto spesso in alcune forme di demenza Alzheimer collegate sia presente una contemporanea apnea nel sonno che provoca una cattiva ossigenazione anche del cervello e quindi anche nel paziente anziano i disturbi cognitivi partono molto spesso da un problema respiratorio durante il sonno. Epidemia sommersa, silenziosa perché se è vero che noi abbiamo un 3% di pazienti con osas grave sintomatica con gravi sintomi notturni e diurni abbiamo un'altrettanta percentuale di pazienti con osas grave ma non sintomatica ma soprattutto dei pazienti con un'osas lieve e moderata che potrebbe diventare severa con sintomi e soprattutto con le comorbidità cioè con le patologie associate prima e tra tutte quelle cardiovascolari per cui c'è molto del mondo sommerso questo è un iceberg di cui noi conosciamo bene soltanto la punta non conosciamo bene la base e quindi è un'epidemia silenziosa e sommersa sulla quale soprattutto i medici debbono prestare attenzione questo è lo studio recente che è stato fatto in Europa in Svizzera che si chiama Hypnolaus a cui faceva riferimento la rettrice professoressa Polimeni che ci dice che la presenza di un osas magari non gravissima abbonda nella popolazione soprattutto maschile arrivando addirittura al 50% dei soggetti studiati come facciamo ad intercettare ad avere il sospetto di un'apnea soprattutto interrogando i pazienti interrogando se possibile il partner di letto alla ricerca di sintomi quali russamento pause respiratorie e soprattutto di una eccessiva sonnolenza di urna ed esistono molti test che con un questionario cercano di attribuire un punteggio alla gravità della facilità di addormentarsi una volta avuto il sospetto esiste un esame non invasivo che il paziente può effettuare a casa nel suo proprio domicilio montando un apparecchio per una o due notti che è mirato a studiare a valutare il respiro dal naso e dalla bocca il movimento del torace delle addome con delle fasce l'ossigenazione tramite il saturimetro così diffuso durante il periodo della pandemia altri canali accessori per valutare l'attività elettroencefalografica del cervello eventuali movimenti delle gambe alla ricerca di fenomeni di ipopnea cioè riduzione importante con calo dell'ossigenazione del respiro ed apnea che vengono descritte da un indice che si chiama apnea hipopnea index indice il cui valore ci dà un'idea della gravità dell'eventuale disturbo respiratorio durante il sonno questo è un tracciato difficile da comprendere per i non addetti che cerchiamo di semplificare qua c'è il respiro normale del paziente l'aria entra ed esce qui possiamo vedere anche per i non addetti ai lavori che non c'è più il respiro perché? perché il paziente sta dormendo magari in posizione supina e non c'è più il passaggio dell'aria per via di un'apnea fortunatamente il nostro cervello dopo un tot 10 15 20 secondi percepisce il problema e c'è un brusco risveglio ed il respiro riprende per poi magari fare un nuovo fenomeno di apnea e poi riprendere bruscamente questo che vi sto indicando adesso è il segnale dell'ossigenazione voi vedete come alla fine dell'apnea che è questa l'ossigeno scende preoccupantemente per poi risalire quando il paziente si risveglia ma questi ripetuti cicli di cattiva ossigenazione sono alla base di moltissime patologie perché è importante trattare l'OSAS perché noi dobbiamo migliorare l'ossigenazione notturna e perché dobbiamo togliere quell'eccesso di sonnolenza che può essere responsabile di molti rischi per il paziente tra cui l'aumentata incidentalità esiste una normativa sul rilascio delle patenti di guida che prevede nel paziente con una sindrome delle apnea ostruttive il trattamento della stessa per poter guidare in sicurezza per se stesso e per gli altri come trattare l'OSAS ebbene oggi abbiamo molti strumenti l'approccio è multidisciplinare può intervenire l'otorino quando abbiamo un problema anatomico del naso e del faringe con una eccessiva collassabilità e si possono fare delle microterapie chirurgiche non invasive per irrobustire questo distretto il pneumologo il medico del sonno interviene con la cosiddetta CIPAP che adesso condivideremo è incluso nella rosa degli specialisti l'odontoiatra l'ortodontista soprattutto nei giovani pazienti che si deve occupare delle malocclusioni è previsto l'intervento del nutrizionista del endocrinologo addirittura del chirurgo bariatrico per la perdita di peso del cardiologo del chirurgo maxillofacciale quando abbiamo delle alterazioni del distretto delle ossa craniche questa è una delle possibilità rappresentate dal trattamento odontoiatrico in cui un bite doppio sia per l'arcata superiore che per l'arcata inferiore per i pazienti che hanno una dentatura sana promuove un avanzamento dell'arcata inferiore della mandibola che apre il palato ed è definita terapia di avanzamento mandibolare con un dispositivo ortodontico qui ci sono degli esempi di chirurgia del palato che sono una sorta di lifting del palato per tirarlo qui è rappresentata e qui ancora meglio nel dettaglio la CPAP è una mascherina che si applica sul naso del paziente collegata ad un piccolo respiratore silenzioso che manda l'aria all'interno del faringe del paziente per evitare la chiusura del faringe stesso alla base del problema questa magari è una terapia ponte in attesa di risolvere o l'eccesso di peso o l'alterazione anatomica del faringe del paziente che mette in sicurezza il paziente riducendo il rischio cardiovascolare mette in sicurezza il paziente e chi guida accanto a lui durante la guida di un mezzo soprattutto un mezzo pesante consente il rilascio ed il rinnovo della patente di guida qui abbiamo un paziente che ha le apnee che ha un tracciato con una pessima ossigenazione qui a destra lo stesso tracciato durante l'applicazione della CPAP questo respiratore sicuramente sgradevole nelle prime notti ma poi diventa un ottimo ed efficace strumento per interrompere il circolo vizioso ed io a questo punto posso interrompere la mia condivisione e dare la parola al moderatore allora Marco intanto grazie ancora per questo splendido comunque intervento che ci ha permesso di entrare ancora maggiormente nella tematica e lascerei invece la parola ad Agnese così intanto comincia piano piano la condivisione dello schermo perché adesso con Agnese cercheremo praticamente di farvi vedere quelle che sono i vari prodotti che sono stati sviluppati per la parte informativa formativa legata al progetto grazie ancora Marco vai Agnese devi accendere il microfono però Agnese eccomi qui allora quello che vi presenterò è appunto un viaggio attraverso uno un caso reale che abbiamo in qualche modo trasformato in un video per far conoscere e soprattutto memorizzare il caso tipo di un soggetto con affetto da sindrome delle apnee notturne abbiamo già visto l'importanza diciamo delle apneostruttive del sonno nel determinismo dell'incidentalità stradale e dell'infortunistica lavorativa e cominciamo a conoscere Mario il nostro protagonista Mario è infatti il protagonista della storia è un soggetto di 42 anni ha un peso di circa 106 kg un'altezza di 172 cm quindi un indice di massa corporea cioè il rapporto tra peso e altezza di 36 ossia un soggetto obeso la sua attività lavorativa è quella di un impiegato tecnico dall'età di circa 22 anni quindi praticamente da sempre un forte fumatore fuma infatti circa 45 pacchi cioè pacchetti in un anno adesso vi lancio il video per conoscere appunto Mario e Agnese non si sente si devi ricondividere con il sì allora oggi abbiamo qualche piccolo problema condivisione del suono già c'è prova a ripartire no prova ad alzare il volume ha selezionato la condivisione sì ho selezionato la condivisione dell'audio vuoi provare a lanciarlo tu altrimenti allora schermo intero riproviamo ancora credo sia un problema di video all'interno della presentazione di powerpoint non so se ce l'ha in modo separato così possiamo provare a condividerlo da lì e dovrebbe funzionare magari lo apriamo da youtube direttamente allora lo so lo condivido io Agnese grazie a tutti Grazie a tutti. E' un fumatore incallito, ma non ha mai avuto particolari problemi di salute e per questo conosce poco il suo medico di base. Negli ultimi anni è aumentato di peso anche se la sua alimentazione non è cambiata. Racconta della crisi con la moglie anche a causa di qualche defiance in camera da letto. E non bastasse l'incidente sul lavoro, la frattura del braccio, le assenze dell'ultimo periodo. L'unico problema che il medico ha riscontrato è l'ipertensione arteriosa. Dopo una notte agitata per il cattivo sonno e per le frequenti minzioni notturne, per Mario suona la sveglia presto e inizia un'altra giornata di lavoro. Alla guida del furgone aziendale, in giro tutto il giorno per fornitori e cantieri. Percorre l'autostrada mangiando un panino al volo. È stanco e inizia a fare fatica a rimanere sveglio, ma non vuole fare tardi agli appuntamenti e invece di fermarsi pensa che... A 140 km orari, in un solo minuto, sarebbe arrivato al casello. Così accende la radio per cercare di tenersi sveglio. Ma c'è traffico e un furgone da superare. Intanto le immagini diventano sfocate. E... il buio. Una frenata. L'impatto. Mario con il suo furgone tampona un camion e si schianta nel guardrail. Soccorso dai sanitari, viene ricoverato. Curato per le conseguenze dell'incidente, viene sottoposto ad accertamenti medici. A Mario viene eseguita la polisonnografia. E scopre così di essere affetto dalla sindrome delle apnee ostruttive del sonno, più brevemente detta OSAS, Abstractive Sleep Apnea Syndrome, e che la sindrome delle apnee ostruttive del sonno, se non curata nel tempo, può provocare conseguenze anche molto gravi. Se ti riconosci nei sintomi o semplicemente se hai dei dubbi, ora hai un'arma in più, a portata di un click. Inquadra il QR code. Accedi a Sleep OSAS e inizia subito il test. Potrai scoprire attraverso semplici domande se sei un soggetto a rischio OSAS. Questo test è realizzato da un'equip di esperti e ti offre diversi contenuti interattivi. Scopri, approfondisci e divertiti. Ecco, rilascio la parola ad Agnese. Eccomi. Quindi sulla base praticamente del nostro video vediamo che Mario, che presenta diciamo delle caratteristiche particolari, l'obesità, la scarsa qualità del sonno, un'attività lavorativa a rischio di infortuni e di incidenti, negli ultimi quattro anni riferisce un aumento ponderale senza una modifica, diciamo, della sua alimentazione, la crisi coniugale probabilmente legata a un'alterazione della libido, l'infortunio sul lavoro, l'ipertensione arteriosa resistente a farmaci e poi ovviamente il fatto. Questo ha ulteriore, diciamo, motivo per sottolineare che la salute è sicurezza anche sulla strada e che la prevenzione è quindi essenziale. Lascio la parola alla collega, la dottoressa Emma Pietrafesa, del Dipartimento di Medicina, Epidemiologia e Giane del Lavoro Ambientale dell'INAIL. Prego, Emma. Allora, grazie mille, Agnese. Fatemi sapere se si vedono le slide, aspettate, no, è partito tutto. Allora, sì, anche in chat mi chiedevano praticamente il QR code e il QR code è questo, non so se riuscite praticamente ad inquadrarlo direttamente dalla slide. e l'app, così come era stato praticamente detto, è stata, lo lascio un altro po' così magari se lo volete inquadrare in modo che potrete accedere direttamente al test. L'app è stata praticamente realizzata attraverso un'equipe multidisciplinare di esperti, poiché, come ha spiegato sia Marco nella sua presentazione che Agnese, la tematica, diciamo, relativa appunto alle OSAS è una tematica molto ampia che necessita di un approccio a 360 gradi. Ed infatti abbiamo avuto praticamente all'interno del gruppo di progetto non solo la parte, come dire, medica relativa agli specialisti di medicina del lavoro e specialisti appunto in broncopneomonologia, ma abbiamo avuto anche appunto la presenza di esperti comunicatori e di alcuni giuristi per andare poi in qualche modo a riportare tutti i contenuti all'interno praticamente sia del sito che dell'app. Se volete provare praticamente a fare il questionario e quindi per fare una prima autovalutazione, cioè un primo screening per capire se sei a rischio, potete o inquadrare il QR code oppure andando praticamente direttamente sul sito di Slipposa dove c'è una sezione con su scritto sei a rischio. Il questionario è stato praticamente realizzato attraverso un'applicazione web, quindi intanto non vi dovete scaricare nulla sul cellulare, è un'applicazione quindi che funziona su tutti i dispositivi, sia essi praticamente Android o iOS, ed è finalizzata a una prima valutazione del fenomeno delle OSAS in tutta la popolazione generale. In che modo? Attraverso uno strumento clinico anamnestico che è stato praticamente realizzato, ovvero noi siamo partiti utilizzando delle scale validate di tre diciamo questionari principali che sono il Berlin Questionnaire, l'App Worth Sleepness Scale e lo Stop Bang, a cui poi sono stati inseriti degli item in relazione diciamo ad alcuni elementi anagrafici che servivano un po' per comprendere meglio la tipologia appunto che in quel momento stava facendo praticamente il test. Il test ovviamente non costituisce una diagnosi clinica, ma restituisce però un feedback informativo immediato ed anche di orientamento per capire se ci sono alcune situazioni di rischio rilevate. Ora diciamo per una questione di tempo vi faccio solo vedere molto velocemente in realtà la tipologia comunque di domande che sono state praticamente inserite, sicuramente il settore lavorativo, l'aspetto appunto del come sei che viene definito in base all'altezza e diciamo all'altezza del peso, la circonferenza collo che non è diciamo fondamentale nel feedback immediato, però se riuscite ad inserirla è ovviamente diciamo un elemento comunque in più nella caratterizzazione diciamo del fenotipo. Alla fine praticamente del test il feedback che vi viene diciamo rilevato in base ovviamente alle esposte che voi date elabora alcuni risultati e questi risultati sono stati come dicevo appunto ripresi dalle scale valedate di questi diciamo tre strumenti. Il primo sull'indice di massa corporea ovviamente abbiamo ripreso quella che è la classificazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e che riguarda l'indice relativo appunto agli adulti di età superiore a vent'anni. Il secondo indice invece riguarda la scala di Hepworth per la valutazione della sonnolenza, ossia per la valutazione di quelle situazioni associata a una sonnolenza e in base praticamente alla tipologia di punteggio, quindi alle risposte che vengono date, vorrete avere un feedback che può essere di luce verde, cioè una sonnolenza definita normale, una luce gialla dove la sonnolenza praticamente è di tipo medio, oppure come in questo caso una sonnolenza anomala che viene evidenziata con luce rossa. L'altro, diciamo, gli altri item che sono stati inseriti sono quelli relativi al cucinario di Berlino, dove la prima sezione valuta soprattutto la severità del russamento e la seconda invece valuta l'eccessiva sonnolenza di urna e la terza valuta invece la storia di obesità e ipertensione, tutti ovviamente elementi che sono stati, diciamo, identificati anche da Marco nel suo intervento. Anche in questo caso il feedback è abbastanza immediato, sia a livello, diciamo, di colore che visivo, poiché se sia ad alto rischio ovviamente osa, se il feedback diviene in maniera rossa, se invece sia a basso rischio o appunto non c'è nessuna considerazione importante da evidenziare, il feedback che avrete sarà verde. Lo stop bank è invece quello che appunto, diciamo, l'ultimo questionario che è stato inserito e la tipologia appunto, come dire, di feedback visivo che abbiamo scelto è sempre la stessa. Ma il sito, diciamo, di SleepOSAS non dà solamente, come dire, la possibilità di poter usufruire di questo test di autovalutazione per un primo screening, ma consente anche la possibilità di avere informazioni aggiuntive necessarie per conoscere, prevenire e gestire la sindrome delle osas. In che modo? Abbiamo una sezione approfondimenti in cui ad esempio troverete sia i video che sono stati proiettati oggi, sia anche un'altra serie, diciamo, di informazioni aggiuntive che vengono di volta a volta aggiornate. Ad esempio, abbiamo, diciamo, delle piccole card che vi identificano meglio anche a livello iconografico e infografico, quelli che sono i numeri relativi alle osas, le conseguenze, le complicanze, o quelli che sono appunto i sintomi tipici, sono stati già detti, russamento, somnolenza e stanchezza di urna, quelli più frequenti, difficoltà della, diciamo, della concentrazione, riduzione della performance di urna, e quelli meno comuni, la ridotta libido, reflusso, castroesofangeo e così via. Quindi è uno strumento, come dire, che in qualche modo, no, cerca di ampliare quella che è la, diciamo, la base di conoscenza e di consapevolezza del fenomeno. Abbiamo poi nella sezione pubblicazioni e eventi, una sezione in cui all'interno del sito di volta in volta aggiorniamo sulla base, appunto, delle pubblicazioni che vengono effettuate. Al momento, per esempio, troverete una fact sheet realizzata, diciamo, come INAIL, proprio sulla sindrome della penna assurtiva del sonno, e gli eventi che di volta in volta, appunto, vengono aggiornati. Quindi, per approfondire la tematica, e soprattutto, magari, anche per poter utilizzare questi materiali che comunque sono tranquillamente, diciamo, scaricabili, vi consiglio di, diciamo, di andare, appunto, a guardare, a consultare il sito, diciamo, di Slipposa. Allora, a chiusura, praticamente, di questo webinar, ringrazio innanzitutto tutti gli organizzatori che ci hanno dato questa opportunità, e i partecipanti, e lascio la parola ad un messaggio e contributo della dottoressa Valeria Luzzi a chiusura proprio dell'evento. Vediamo il progetto Bricchina, nel 2018, sullo Slipposa, salute sul lavoro e prevenzione delle Obstructive Sleep Apnea. Appunto, stiamo parlando di una epidemia di tipo silenzioso. L'OSAS rappresenta un grave e crescente problema sanitario, sociale ed economico, con una prevalenza superiore al 20%. Il dato importante su cui dobbiamo riflettere è che, nonostante l'OSAS sia estremamente frequente nella popolazione, ad oggi viene stimato che il 75-80% di questi casi non vengano ancora identificati come pazienti OSAS. Si tratta proprio di una popolazione adulta ad elevato rischio di OSAS ed è una popolazione affetta da varie comorbidità che rientrano nell'ambito delle patologie cardiovascolari, patologie dismetaboliche, diabete mellito di tipo 2 e patologie associate ad insufficienza renale e broncopneumopatie croniche ostruttive. Ed è proprio questa popolazione che non viene identificata e diagnosticata che va ad impattare sui costi come costi da mancata prevenzione, andando a rappresentare dei costi non solo di tipo diretti per mancato trattamento, dei costi delle comorbidità, ma anche e soprattutto costi indiretti, costi associati quindi ad incidenti, incidenti di tipo stradale, domestici ed incidenti sul lavoro e nel tempo libero, nonché costi sociali che vanno ad impattare sulla qualità di vita e che sono associati fondamentalmente da mancata produzione. Se andiamo a quantificare questi costi, studi recenti dimostrano come il rischio di infortunio lavorativo sia doppio rispetto agli individui non affetti da OSAS, il rischio di incidenti statali fa registrare una frequenza addirittura di 5 volte superiore e la corrispondente perdita relativa all'impatto sociale, quindi alla perdita di qualità di vita, è valorizzabile in circa 9 miliardi di euro l'anno. Quindi, diagnosi e prevenzione rappresentano senz'altro le due parole chiave nella lotta alle patologie come l'apnea assolutiva del sonno, laddove i casi accertati sono solo il 4%, quindi ancora un numero troppo esiguo. In quest'ottica, il progetto BRICCHINAL Salute sul lavoro e prevenzione dell'abstractive sleep apnea ha lo scopo di andare a stilare dei protocolli specifici di salute pubblica associata alla medicina del lavoro che hanno come obiettivo quello di attuare una prevenzione di salute generale e chiaramente anche salute orale nell'ambito delle apnea assolutive del sonno in età adulta. Come nasce questo progetto? È un progetto che nasce come studio epidemiologico di tipo osservazionale e prospettico con un obiettivo principale che è quello di andare a ricercare la distribuzione e la prevalenza dell'OSSAS nella popolazione adulta generale lavorativa e nella popolazione lavorativa a maggior rischio di incidentalità e di infortuni sul lavoro. Quindi la conoscenza di questo fenomeno OSAS e la sua prevalenza ma soprattutto l'impatto nei lavoratori del settore dei trasporti consentirà senz'altro di stilare dei protocolli di prevenzione e diagnosi precoce. Accanto a questo obiettivo principale dello studio vengono stilati degli ulteriori obiettivi specifici. Diciamo che nell'ambito del progetto sono coinvolte quattro unità operative laddove l'unità operativa 1 è rappresentata da sapienza nell'ambito del Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali quindi sapienza e capofila del progetto unità operativa 2 Università di Cagliari in collaborazione con l'Università di Parma e di Milano unità operativa 3 IDI e Policlinico Torversata e unità operativa 4 INAIL nell'ambito del Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro e Ambiente impegnata chiaramente nell'ambito di tutto il coordinamento. Tra gli obiettivi specifici vi è senz'altro quello di andare a stilare un protocollo che rappresenta uno strumento epidemiologico di intagine rappresentato da un questionario un questionario che sarà basato su degli strumenti standardizzati e riconosciuti come universalmente applicabili nell'ambito di una diagnosi precoce. Chiudiamo allora il nostro webinar ringraziamo ovviamente tutti i relatori che diciamo diamo il saluto e soprattutto l'invito a partecipare alla nostra diciamo indagine a diffonderla il più possibile per far conoscere OSAS e per prevenire il rischio correlato a questa patologia. Grazie a tutti arrivederci buona giornata. Grazie